la riscossa delle streghe presentato dalla pluripremiata compagnia SADICI ma pantalone oh signor marito indosso lo stesso vestito da 5 anni ma ti sta ancora bellissimo un tempo era rosso basta contradirmi se no ti faccio battere me stesso mi sposo con chi? ma con me presidente della lega per le salsizie e degli asili nido va bene che faccio tutto quello che mi dice papà allora assaggiatelo ma che cosa fate? non mi piace allora assaggiatelo e noi donne non dovremo arrenderci finchè non sarà vinta che giocano conti io sono clarinessa l'ha fatto chi era per scommessa no qui dalle terre del chiaroscuro e l'ego passato presente e futuro io sono atasgona ed è meglio che ne stai buono scema arriamoci ritrovati le scomparse io ci rispetteremo sono saluta con te e io sono il pantalon dei bisognosi il padrone dell'albergo ma che tu sei il padrone? benissimo prendi qua il pantalon qua ma cosa fai? stai con me e viva gli scomi! 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 e viva gli scomi!